Buonasera a tutti ragazzi, sono Inzionosa di MCP e ho avuto in questo nuovissimo video chiamato una bellissima serie GameBlock Megablock Megablock, scusami Come avete visto dall'episodio precedente, cioè il primo, ho costruito una TNT e una cesta Io quella cesta che abbiamo fatto l'ho modificata, l'Alberto avrà pure l'ha fatta, adesso ve la farò vedere, è vero Alberto? Non l'ho modificata, quando? Quella ho fatto l'importanza della cesta quando l'ho modificata Si ragazzi ve lo metto alla fine del video Come ragazzi ho fatto una piccola modifica come hai detto da un mio iscrivito Ho messo i blocchi di ferro al posto della lala bianca, è molto più figo E oggi faremo un altro blocco, quello per fare il reattore del neve, questo qua è bravo Fa la mano, selezionate, come provocherà meglio Facciamo qualcosa di più semplice Io pensavo che era un altro tipo Oggi facciamo il blocco di legna, vero Alberto? Che cazzo li fa il blocco di legna? Oggi ragazzi non dobbiamo che fare Facciamo la fornace, oh Perfetto Occuperà No aspettate Facciamo la fornace Oggi facciamo due episodi Oggi registriamo due episodi, comunque ne caricherò solo uno ogni tanto Oggi facciamo la fornace, ragazzi Quindi No io ho il letto, giusto, dormiamo Poi ho una casa gigante Ok ragazzi, come hai detto da Dennis Oggi facciamo il letto Ok Quindi, buon timelapse Ah, intro Ah, aspetta, intro Di, 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 prima di l'intro Di, 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 di Aspetta, non è che mi faccio l'altra volta che devo... Aspetta l'intro Nooo Che dovevi di qui ma che dicevo io, intro Ah, si Mi va la figa E E Nooo 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 Grazie a tutti. 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 No, ho rotto il letto. Era schifo. Vabbè, fa niente. Dai, insegna è tutto. Vabbè, si capisce che è un letto, no? Dai, insegna è tutto. Ciao a tutti. Dai, Nicola Forno ci manca.